La Rally Terapia sbarca a Valle Crosia. La Rally Terapia è un'iniziativa che io seguo personalmente come azienda da diversi anni, quindi ho visto questa attività sociale, sportiva, di divertimento che ha uno sfondo veramente molto interessante. E allora mi sono chiesto, dopo averla seguita a Ventimiglia, a Bordighera, a San Romolo, perché non farla nella nostra città a Valle Crosia. E allora da cittadino, da amministratore e ancor più da sostenitore dell'Associazione della Rally Terapia, ho fatto già proposta all'Amministrazione Comunale e all'Assessore al Turismo e Manifestazioni di fare un'edizione anche a Valle Crosia, coinvolgendo quelle persone che hanno piacere di poter partecipare a questo momento, coinvolgendo probabilmente anche le scuole, i servizi sociali, le associazioni di categoria che hanno come sfondo quello di curare la disabilità. Quindi un'iniziativa che quest'estate, stiamo cercando adesso di capire quale può essere la data migliore, probabilmente potrà essere intorno al mese di luglio o agosto, non sappiamo ancora perché abbiamo chiesto la disponibilità delle macchine da rally, perché questo si tratta, le macchine da rally che portano le persone disabili, persone disagiate, persone che hanno veramente voglia di provare quelle emozioni che possono provare chiunque. Quindi appena avremo la data disponibile, vi riaggiorneremo su questa data, ma intanto l'amministrazione ci ha confermato la disponibilità a far sì che noi possiamo presentare questo progetto e quindi la rally terapia finalmente potrà arrivare a Cavallecuzzi. Il tutto corredato da un evento molto particolare che vi lasciamo il suspense di poi apprendere quello che sarà il vero evento.